Internet è un riferimento importante per i pazienti, sicuramente per il paziente con psoriasi, che è un paziente in età centrale, in possesso di un titolo di studio superiore e con un problema da gestire, sicuramente importante ma non una patologia grave. Cosa cerca il paziente su internet in generale in tema di salute? Cerca soprattutto il suo problema, come curare il suo problema, i farmaci, il trattamento ma anche in generale a volte sui corretti stili di vita e alimentari. Come accede ai siti su cui trova informazioni? Normalmente entra su un motore di ricerca, digita una parola chiave e da lì entra sul web e naviga nei diversi siti. Ovviamente si trova a volte di fronte a siti istituzionali ma anche non e quindi in ambito psoriasi si fa riferimento magari ai siti delle associazioni pazienti ma anche a siti più generalisti. Bene essere anche torrino medica per quanto riguarda la parte dei farmaci e dei trattamenti. Il paziente trova sì le informazioni su internet però ha la percezione di trovarli più per un percorso di trial and error che per l'esistenza di un sito certificato e istituzionale. Sembra proprio che abbia la percezione che manca un riferimento chiaro sul web, credibile, attendibile, che faccia da contenitore delle informazioni che sta andando e cercando ma anche che si faccia garante delle informazioni che il paziente riceve sul web. È importante quindi trovare un sito istituzionale che dia garanzia delle informazioni e che abbia tutte le informazioni che il paziente sta cercando.